l'atterraggio di andrate non c'è nessun problema e che io ho tirato anche col vento in culo se invece fai l'otto, vai a fare direttamente l'altro la pallina, dammi quella pallina è quasi sospettata pipi, 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 pipi guarda qua pipi, 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 pipi pipi, pipi, pipi vieni pipi, vieni dammi la pallina dai la pallina e ti do questo pipi, pipi